Il corso Il costo del lavoro e struttura del budget offre un'approfondita comprensione delle componenti del costo del lavoro e delle informazioni necessarie per definire un budget efficace. Attraverso strumenti pratici e l'analisi delle variabili chiave, i partecipanti impareranno a elaborare budget previsionali flessibili, utili sia per il controllo preventivo che consuntivo della spesa del personale. Inoltre, il confronto internazionale permette di evidenziare punti di forza e debolezza delle imprese italiane rispetto ai competitor esteri, fornendo un quadro completo per migliorare la gestione e l'organizzazione dei costi aziendali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date, programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.